Il T9 Ontario C da Francia che riprende, aveva bussato, c'era qualcuno che faceva appello più o meno su questa frequenza, io lo pregherei un attimino ora, lo premo entrare nel QSO, qui è il T9 Ontario C da Francia con un meccanizzatore inserito a 5 bande, 80 Hz, 100 Hz, 1 kHz, eccetera eccetera, e praticamente un piccolo equalizzatore è incorporato nell'MC60 sul dosamento, è fortunatamente schermato, ho lo stacco, vediamo se cambia la tonalità di voce, eccomi qua, ci sono con il solo microfono l'MC60 senza equalizzatore inserito, allora inserisco un attimo un attimo l'equalizzatore, eccomi qua, ci sono con l'equalizzatore inserito, allora riprende carissimo Alfredo, poi lo ripassa l'amico che era qua a chiedere se la frequenza era libera, se ha avuto la pazienza di aspettare, il Z8 del T9 Ontario C da Francia, avanti.